Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre di Dio, inizia un nuovo giorno e io ti prego, aiutami e guidami. Ho bisogno di tanto aiuto e tanta grazia e tante grazie per me e la mia famiglia, ma so che non le meritiamo. Ma io sono qui, Madre cara, come tuo figlio e ho tanto bisogno di te, del tuo cuore che comprende il mio, del tuo perdono per tutto quello che ho sbagliato, delle tue mani che mi salvano da questa fossa dove sono caduto, della tua bocca che mi rasserena e mi dà una speranza nuova. Voglio pregarti, Maria, e pregare di più oggi, come tu mi chiedi sempre, e lottare e meritare quelle grazie di cui ho tanto bisogno e che aiuteranno le persone che amo di più. Tu vedi il nostro cuore e i nostri grandi problemi, ma vedi anche i nostri peccati, le nostre offese a Gesù e le nostre indifferenze. Abbi pietà, Madre mia, abbi pietà e misericordia di noi. Buongiorno, Madre Santissima, ti dico buongiorno, affidando al tuo cuore immacolato tutto me stesso e tutto ciò che ho. Pensaci tu, Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Le grazie potete averne quante ne volete, dipende da voi. L'amore divino potete riceverlo quando e quanto ne volete, dipende da voi.